Buonasera Daniele Emanuele e benvenuti alla diciottesima puntata in stagione di calcio di rigore puntata come sempre ricchissima ricchissima di servizi video ma prima di iniziare vado a presentare chi mi affiancherà nella conduzione della buona serata la nostra Veronica Lissotti ciao Daniele siamo sopravvissuti a questa influenza chi più chi meno io meno che più ma davvero stasera tante le cose che andremo a vedere partiremo come sempre dall'eccellenza dove vedremo le immagini relative al match Rimini classe e poi avremo una piccola chicca dove vedremo insieme un po' un ritrovo relativo a vecchi e nuovi arbitri con le interviste del nostro Renzo Baldisserri ci sposteremo come sempre poi in promozione Girone D con Russi Bacchia Cesenatico e le immagini di San Pietro in vincoli Valle Savio andremo poi al di là del fiume Tavolo quindi ci sposteremo nella regione Marchigiano dove vedremo il difficile cammino del Gabice Gradara che perde contro il Villa Musone e come sempre poi completeremo il nostro menu con la prima categoria Girone H in particolar modo Nuova Feltre Appoggio e Berni per interagire con noi questa sera come sempre 333 60 94 299 tramite sms o tramite whatsapp poi abbiamo ovviamente la nostra diretta quindi aggiornamenti in tempo reale sulla nostra pagina facebook calciodirigore.official e chi di voi volesse rivedere la nostra puntata vi invitiamo a visitare il portale www.romagnosport.com Allora direi che siamo pronti per partire Daniele chi abbiamo con noi questa sera? Ebbene sì questa sera abbiamo ospite purtroppo come sempre il nostro opinionista Giacomo Alpini ciao Giacomo Ciao buonasera a tutti Invece diamo il benvenuto nei nostri studi al dirigente del Sassamarconi Fabio Bianchi grazie Fabio Buonasera 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 e infine anche lui è un new inti per quanto riguarda noi Giovanissimo tra l'altro Giovanissimo quanti anni hai Alex? 18 li ho fatti a dicembre Alex Tentoni centrocampista del Verrucchio ringraziamo anche Simone Massaccesi che ha provveduto lui a mandarti Allora salutalo perché ti sta seguendo il bene Sì probabilmente esatto grazie Simo e grazie a voi Alex spiegami subito al volo come mai il Verrucchio due sconfitte nell'arco di quattro giorni qual è il successo? Allora abbiamo avuto tre partite in una settimana quindi già questi sono stati tre impegni duri Due scontri diretti con il Granata che era subito sotto di noi a un punto e si è riusciti a portarli a casa Nonostante fosse un campo ostico perché il loro campo non era il massimo era piccolo e comunque loro Ci hanno dato filo da torcere visto che siamo anche andati sotto e si è riusciti a recuperarla negli ultimi dieci minuti Poi abbiamo avuto il recupero con l'Izea mercoledì sera dove sapevamo che avremmo incontrato una squadra molto forte Visto che è prima in classifica e chiaramente se lo merita Siamo riusciti anche a giocarcela, abbiamo avuto bene o male le stesse occasioni Però loro sono riusciti a portare a casa il risultato essendo più cinici di noi Ieri col Morciano probabilmente non meritavamo di perdere assolutamente Loro sono stati molto molto cinici avendo effettuato un solo tiro in porta e sono riusciti a far gol Noi ce ne siamo mangiati diversi e finita così 1 a 0 Grazie, grazie Adesso dobbiamo sentire proprio Fabio Fabio per quanto riguarda l'eccellenza Rimini davvero troppo forte oppure il sasso Marconi vedendo anche il risultato di ieri c'è ancora Io sono venuto in trasmissione volentieri grazie anzi di avermi invitato Grazie a te Per parlare bene del Rimini perché è una signora squadra attrezzata, completa, non le manca proprio niente E se mai fosse mancato qualcosa ci ha pensato in dicembre a prenderlo Per rafforzarsi Il sasso Marconi, il sasso Marconi tiene botta, sta andando avanti, lavora molto molto bene con uno staff stupendo Che è molto molto preparato, che è l'allenatore Roberto Moscariello, il vice allenatore Enzo Cevenini, il preparatore atletico il professor Angelo Buono e il massaggiatore e dottore Alberto Silvestroni Questo è un team che potrebbe lavorare anche molto più in alto, devo dire, è questo Quindi il frutto di questa conduzione a questo livello che teniamo botta, teniamo testa a un Rimini che è un altro mondo E' anche frutto di tutto questo lavoro che stiamo facendo così bene E tutto nasce comunque da un bellissimo vivaio, abbiamo circa 300 ragazzi, 25-26 allenatori Molti di questi giocano già in prima squadra Bello, bello questo Tant'è che domenica il gol della vittoria ce l'ha segnato un 99 E queste sono grosse soddisfazioni soprattutto per un team d'eccellenza Andiamo a vedere i risultati classifichi così facciamo anche un punto con Giacomo, prego Veronica Eccola qua, eccellenza Girone B, ventiquattresima giornata Gran amica bella Regge Marina 4-2 Il derby fra Old Mendole e Castro Caro, se lo giudica il Castro Caro per 0-1 Scatenato Casadei che regala la vittoria alla Savignanese, Savignanese-Cervia 2-0 Sottolineiamo anche l'esordio di Catalano per quanto riguarda il Cervia Rimini classe 1-0, 1-1 fra Corticella e Faenza Marignanese-Faro 1-0, prima vittoria a Casalinga dei Giallo-Blu Progresso Fia-Riccione, questo scontro diretto termina sul 2-1 Il big match di giornata, Sasso-Marconi-Massa-Lombard Deciso dalla rete di Garni al 72-1-0 Unico pareggio di giornata, Riti Bianche, Sant'Agostino-Real San Lazzaro 0-0 Argentana-Sampierana 3-0 Ricordando, intanto vediamo la classifica che ci regala il nostro Stefano Papini Ricordando che il capo canoniere del Girone, Noselli del Sasso-Marconi con 16 gol Ricordiamo anche che le gare da recuperare sono San Pierana-Progresso Olmedola-Fiericcione-Faro-Granamica In vetta troviamo il Rimini a 55 punti Quinta giornata consecutiva in vetta con il miglior attacco 51 i centri fatti e la migliore difesa solo 12 I palloni raccolti in fondo al sacco Sasso-Marconi con 52 punti Con 16 vittorie e 4 le sconfitte Ben 3 pareggi, seconda migliore difesa del campionato No Ecco, mi dica No, sono 4 i pareggi e 3 le sconfitte 4 pareggi, giusto, 3 le sconfitte Massa Lombarda 39 punti in coabitazione con i classe Savignanese 38 e Castocaro 37 Bassa classifica troviamo invece il Corticella San Pierana-Faro-Olmedola E poi chiudono Cervia e Bellaria Ige Marina Alex, preparati che tra poco ci sono tantissimi messaggi per te Ringraziamo anche l'amico Simone Massacisi Preparati perché ha scritto un bellissimo messaggio E poi ci sono delle domande interessanti Fabio, tra poco voglio arrivare a te Giacomo a te non ti voglio neanche sentire Quindi stai in silenzio Perché appunto, tu l'avevi annunciato prima Il nostro Renzo Baldiserdi Ha scovato un bellissimo incontro tra ex e nove arbitri In quel di Riccione Abbiamo avuto un'esclusiva grazie a lui nella serata di venerdì Allora io direi di andarci a gustare proprio questo servizio relativo agli arbitri Giornata di raduno nella serata del 27 gennaio 2017 a Riccione Per la classe arbitrale Ma questa volta si trattava di un incontro Di una cena tra ex e nuova classe arbitrale Un mix tra Federazione di Rimini, Romagnola e Marchigiana Dove Aldo Ronci ha voluto organizzare il tutto Mentre l'ospedale d'onore era Andrea Marzaloni Assistente in Serie A e ultima presenza la domenica prima In Juventus e Lazio Sarebbe troppo facile in questo servizio Dirvi semplicemente che è stata una bella serata Tra vecchi e nuovi amici Ma voglio entrare nello specifico C'era il vecchio che chiedeva al giovane Perché fai l'arbitro? Ascoltiamo prima le interviste realizzate da Renzo Baldi Serri E poi proviamo ad entrare nello specifico Con Andrea Marzaloni Assistente di Serie A Uno dei più bravi assistenti della categoria Andrea Quante soddisfazioni hai provato nella tua vita D'assistente e poi anche d'arbitro? Tantissime perché ho avuto la fortuna di arbitrare fino in Serie C Da lì ho avuto appunto la fortuna di passare come assistente direttamente in Serie B E poi in Serie A e soddisfazioni tante Oggi dopo dieci anni in Serie A Dopo 140 gare dirette in Serie A Penso di essermi levato tante soddisfazioni Le occasioni bisogna prendere al volo Mi è stata formulata questa idea da un ex collega Che mi ha lanciato appunto questa idea Di trovarci serenamente una sera tutti assieme Se non davanti a una tavola imbandita Diciamo la sessione di Rimini in questo momento è stata usata un momento magico Tu come la pensi? È sempre questione di cicli In questo momento Rimini come sezione nell'Emilia Romagna è in auge Perché ha un arbitro che non dico in Serie A ma sta facendo la Serie B È un elemento promettente che risponde al nome di Antonio Rapuano L'arbitro con i suoi assistenti sono i giudici di una partita di calcio Ricoprono un ruolo importantissimo Allora spetta l'ardo compito di far rispettare il regolamento Il ruolo, le funzioni e l'operato dell'arbitro e dei suoi collaboratori Finisce spesso al centro di processi e dispute C'è chi vorrebbe una classe arbitrale di professionisti coadjuvati dalla tecnologia Chi invece li preferisce così, ossia dilettanti ai padroni della gara In realtà dietro la figura dell'arbitro ci sono anni di sacrifici Una lunga trafila che parte dai corsi riservati agli allievi L'impatto con il campo da gioco che inizia da settore giovanile A calcio direttantistico Infine i più bravi e fortunati al professionismo Tutto questo è frutto di una lunga gavetta Duri allenamenti, aggiornamento tecnico continuo Raduni, riunioni tecniche e quiz regolamentari La sezione degli arbitri in Italia è a cura dell'associazione italiana arbitri L'obiettivo è quello di dare al calcio una classe arbitrale preparata e professionale In grado di limitare al massimo gli errori Quest'ultimo inevitabile in uno sport sempre più veloce ed imprevedibile Dove la passione calcistica rende sempre più difficile la direzione di una gara Il ruolo dell'arbitro è molto difficile Deve dirigere l'aspetto tecnico e disciplinare della gara Punire equamente chi contraviene sia tecnicamente contendendo calci di punizione o falli di rigore Sia disciplinatamente con i cartellino giallo o russo L'arbitro deve anche preoccuparsi di cronometrare il tempo di gara E' concluso l'incontro compilare il referto di gara Oltre a questi tutte le gare è soggetto alla valutazione di un esperto In quale visioni la direzione del gioco dalla tribuna In aggiunta ci deve essere una preparazione atletica all'altezza della categoria che si dirige Per diventare arbitri non serve solo un'altra preparazione tecnica e fisica Ma anche una grande personalità E' indubbio che nella mentalità dell'arbitro deve farsi largo in buon senso Regola non scritta ma beh sì una dote che va al di là di ogni manuale E che solo un grande direttore di gara riesce a mettere in pratica L'importante però è che dalla tribuna ci sia sempre il rispetto per chi indossa queste casacche Allora entriamo proprio nel vivo Abbiamo accorto anche il servizio fatto con Renzo Baldisseri per capire anche con Fabio La scorsa settimana Fabio il comunicato che è stato emesso dal Sasso Marconi in merito alla partita Pareggiato con la Fioricione qui a Rimini ha fatto arrabbiare i tifosi della squadra bianco-rossa Perché ti dico questo? Perché loro dicono abbiamo accettato il comunicato del Sasso Marconi Però è stato messo di mezzo la parola a Rimini Quello che vogliono dire loro è che Rimini è stato bersagliato negli ultimi anni In qualsiasi categoria Ha avuto una sfortuna incredibile di ritrovarsi dalla Serie B all'eccellenza Il comunicato ci poteva stare però in mezzo senza la parola a Rimini Perché di quel comunicato? Ti volevo chiedere Perché purtroppo è risaputo che chi sta dietro le due compagini sono più o meno le stesse persone E quindi è facile fare subito un'idea di conseguenza C'è da dire questo Se non fosse successo quello che è successo Ovvero un'irregolarità clamorosa Perché è una palla che tra l'altro era già anche uscita Viene rimessa dentro e addirittura in rete con una mano Dal bravo giocatore Cecconi Questo sì che ti scatena un po' di reazione e di rabbia Perché quella partita raggiunta comunque al pareggio all'ottantottesimo da Minelli Poteva essere anche una vittoria E se era una vittoria ancora una volta eravamo lì a rosicchiare qualche punto Alla stragrande maggioranza di forza del Rimini Noi non vogliamo nessuna polemica con Rimini assolutamente Perché ripeto fino alla noia È la squadra che può vincere tranquillamente il campionato È la più attrezzata, è la più dotata, è la più tutto Ma non ha bisogno di aiuti esterni E quindi è normale che ti venga da pensare a qualche cosa di diverso Se succedono delle irregolarità contro il Sasso Marconi Proprio da una società dove c'è un ex giocatore del Rimini Che si chiama Cecconi Che giustamente l'ha fatto anche Maradona Provede a mettere in porta la palla E non è che dopo va a dire Guarda non è vero Cioè sta con i suoi Quindi tutto questo solo Non contro Rimini Ma contro chi, un po' per solitanza psicologica Perché voglio ritornare al punto della partita Dello scontro diretto con Rimini Noi potevamo perdere sicuramente anche contro un Rimini del genere Che tra l'altro non aveva ancora valori Non aveva ancora certi... Mi mandate le immagini, scusami Fabio Dalla regia proprio di quella partita di Trassasso Marconi Eccole qui Fabio Noi potevamo perderla Però non ci può essere tolto un giocatore al venticinquesimo del primo tempo Per un presunto fallo di rigore Che secondo me non c'è neanche Ma che me lo metto anche Cioè lo posso anche accettare Ma non mi puoi espellere il giocatore Perché secondo me Il giocatore che si è tuffato Si era iscritto a una compagnia teatrale la sera prima Era andato benissimo, promosso No, nel senso Ci stanno queste cose Però io voglio giocare a darmi pari Non sto a dire il 23 aprile ci sarà il ritorno a Sassomarconi Eccetera Perché chissà dove sarà Rimini a quell'ora Però mi sarebbe piaciuto giocarmi qualcosa di più importante Proprio per il miracolo che sta facendo il Sassomarconi in questo campionato E che sta tenendo vivo il campionato da solo Perché se no di cosa staremmo a parlare E sì, è un'osservazione importante che fai Perché proprio sempre anche il nostro Renzo Baldisseri diceva Se non forse appunto per il Sassomarconi Tutte le altre che sono lì dietro il Sassomarconi Non hanno nulla da chiedere a questo campionato C'è stato esemplare Una battuta Fabio A Giacomo stasera ti do il permesso di trattarlo male Ti ha rovinato in Natale Con il Bellari vi ha strappato un pareggio inaspettato Io l'ho già detto in privato fuori onda Gli ho detto il Bellari ha due gol con Indelicato Di nome e di fatto Ci ha fatto due gol e dopo ci ha riuscito a rimediarla Bene bene ma per l'amor di Dio Io auguro tutto il bene del mondo al Bellaria Anzi spero che questo punto possa servire Prima telecamera è spenta aveva fatto i complimenti Prima di farvi garmini li aveva fatti al Bellaria Quindi io sono contento così Esattamente Non me lo caricare Fabio Non me lo caricare Confermo Non so io non lo conosco Lo conosco stasera È il mio presidente del Bellaria Fabio Ma non posso mica No no poi trattarti ti diamo il permesso Non imparerà a conoscere Giacomo invece per quanto riguarda la Savignanese Questo quarto posto Ieri ero Savignano Per la partita Ha ottenuto il massimo dei punti Il massimo risultato Non dico col minimo sforzo Però soffrendo molto Io ho visto molto bene il Cervia Che durante la campagna acquisti di dicembre Ha fatto degli acquisti importanti Fratelli Candoli Severi Adesso l'ultimo anche catalano Ha registrato bene la squadra Ieri nel primo tempo ho visto veramente Un bel Cervia Che ha fatto la partita Un po' inconcludente Forse a mio avviso Andava messo prima So che è quel giocatore di colore Che mi ha impressionato Quando è entrato nel secondo tempo E giocare con la doppia punta Forse lì è stata la mossa sbagliata E poi nel secondo tempo invece La Savignanese è riuscita Malgrado tutte le assenze Ricordiamo che mancava di Brighi Squalificato E molti infortunati È riuscito con Lolli Che è veramente un giocatore Di categoria superiore A creare quelle due palle goal E quel doppio goal Di Casadei Di Casadei Che ha deciso la partita Senti Telegrafico invece Per quanto riguarda il Bellaria 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 purtroppo È un'ennesima sconfitta Ecco ci basta così Grazie No aspetta Volevo dire una cosa Ieri Ieri era partita anche bene Un gol Era partito Prima Fabio diceva L'amico Fabio diceva Un gol del 99 Anche ieri Noi abbiamo avuto un gol del 99 Però il risultato non è stato lo stesso Noi dopo ne abbiamo presi quattro Invece il Sassu Marconi È riuscito a ottenere il risultato Era partito bene Poi invece Alcuni errori difensivi Malgrado il cambiamento Di modulo Non sono bastati E va bene Allora andiamo a vedere il prossimo turno Perché qui stanno arrivando le domande per Alex Alex preparati Perché veramente ti stanno bersagnando I tuoi migliori amici Allora Questi qui vedete Rimini appunto Si giocherà mercoledì sera E ve lo ricordiamo Con Rimini Argentana Che si giocherà al Neri Alle ore 20 e 30 E poi via via Il Bellaria è sul campo del progresso Questa è una partita tosta Per il tuo Bellaria Giacomo Sì E poi Marignanese Fia Che ricorda un po' lo scontro Beh è un derbissimo assolutamente Però io vorrei sottolineare Sassu Marconi Il classico in giro di tre giorni Incontra Rimini Sassu Marconi E può essere veramente Il termometro di questo campionato Sono d'accordo Veronica Se sei d'accordo anche tu Prima di passare un attimo alla promozione Leggiamo questi messaggi Che ci vengono Gli amici di Alex Alex ti leggo un po' Quelli più simpatici Qui si raccomanda Sono il migliore amico di Alex Diglielo Questa è la domanda Che ti fa il tuo migliore amico È vero signor Tentoni Che hai rifiutato l'isola dei famosi E un contratto milionario Con Mediaset Per partecipare Questa sera All'intervista su VGA Certo Fantastico Allora Qui dopo arrivano i complimenti Iniziamo appunto da Simone Prima Simone ti ha scritto Allora Simone dice Alex è l'embrema del verrucchio Secondo me è il manifesto Che bisognerebbe far vedere A tutti i ragazzi Si è allenato sempre Con Raggiungendo i propri obiettivi Complimenti Alex Sei il migliore Massa Vuoi ringraziare a Simone? Sì Pubblicamente? Sono qui anche grazie a lui Perché Probabilmente anche lui Mi avrà fatto pubblicità E tutto Mi conosce da quando sono piccolo Perché Avendo un anno in più di me Ci siamo anche allenati insieme Abbiamo giocato insieme Qualche anno E quindi mi conosce bene Io conosco bene lui Forse non hai capito Che Simone sta pensando Adesso che tu sei Liga Bue Perché lui Sì Lui adesso È là da Liga Bue E a Jesu Quindi Probabilmente non mi starà neanche guardando No Ti sta guardando invece Perché è sullo streaming Per Alex Tentoni Come ti trovi con i tuoi compagni Prima squadra? Ah benissimo L'anno scorso Era il primo anno Di prima squadra Quindi ancora Ero più piccolo E quindi Tendevo a rimanere un po' Da parte E quest'anno invece Sono riuscito a legare subito Visto che anche lo scheletro Della squadra È rimasto quello dell'anno scorso A che giocatore ti ispiri? Chiedono Hai un modello? Modello Allora Direi Di 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 grande livello Tipo Vidal Quelle Quei Quei Tipi di giocatori lì Guarda Alex Io sono Juventino No Alex Tipo una volta Alex Rispondimi Giacomo Alpini Che viene giù lo studio A questo favore Che ce la puoi fare E poi mi chiedono Appunto Se Pensi di rimanere a Verrucchio Oppure Pensi anche di ambire A categorie superiori Adesso Sono qui a Verrucchio Quindi Penso a lavorare A migliorare E A aggiungere sempre Un gradino in più Del mio bagaglio tecnico Poi si vedrà Stai a vai stop Hai sentito Daniele Giovane Però con le idee chiare Mi piace Mi piace Alex Bravo 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 Andiamo avanti con la promozione Eccoci qua Allora promozione Girone D Siamo giunti alla 22esima giornata Questi i risultati Russi Bacchia Cesenatico 1 a 1 Primo Q Punto per mister Zanni Il Tropical Coreano Calcio del Duca 0 a 0 Calcio Cotignola Diegaro 2 a 3 Con il ritorno Tra l'altro poi Dimenticavo del Tropical Coreano Del ritorno di Golinucci Dal primo minuto Torna a sorridere Il Torconca Al 64esimo centro Di Torelli Torconca Fossio Ghiaia 1 a 0 Questa sera doveva Essere nostro ospite Però ha avuto un imprevisto Sul lavoro Giorgio Sì lo salutiamo Lo salutiamo Stella Gambetola 1 a 1 Un gol per parte Anche tra Ronk del Weiss E Gatteo 2 a 2 Fra Savarna Giovani Cattolica 5 a 0 Tra Reda E Real Dovadola E San Pietro In vincoli Valle Savio 1 a 0 Diamo uno sguardo Anche alla classifica Ricordando i match Da recuperare Real Dovadola Ronk del Weiss Reda Forso Ghiaia E Savarna Calcio del Duca Capo canoniere del girone Gianluca Farabiegoli Del Ronk del Weiss Con 15 reti In prima posizione Troviamo da 7 giornate Consecutive Il Diegaro Con 51 punti Che vanta la migliore difesa Solo 11 Le reti incassate A seguire a 42 punti Il Russi Giovane Cattolica 41 Zona playoff Ancora a 38 punti Il calcio del Duca E poi ritorna In zona playoff Il Torconca A 37 punti Si muove nella parte centrale La classifica Mentre per quanto riguarda La parte bassa Rimane invariata La situazione di Savarna Bacchia Cesenatico Valle Sabio Real Dovadola Fosso Ghiaia E si vedendo questa classifica Il Russi Dischia molto Anche di essere scavalcato Adesso dal giovane Cattolica Ci facevano presente Appunto Che è una squadra Che è stata allestita Per compiere la salvezza Però oggi Parlavo proprio Con uno dei dirigenti Dicevo Va bene Osare Occorre sempre farlo Soprattutto dopo le prime 8 Che hai fatto già 24 punti La salvezza può essere L'ultimo obiettivo A quel punto lì Va bene Allora andiamo a vedere Proprio il pareggio Che ha ottenuto ieri Il Russi Tra le mura amiche Con il primo servizio Inerente a questa categoria I Russi Incappa ancora Nell'ennesimo pareggio Interno di stagione Squadra fatta Per puntare A una tranquilla salvezza Budget è ristretto Ma la sua Occorre sognare Dato che ci sei Provare Non costa nulla L'avversario di turno Si chiama Bacchia Che in silenzio porta a casa Un punto Che muove la classifica Deficitaria La prima azione del match È di marca locale Tiro cross di Fabri Ma Capelli C'è Con l'azione copia Gallamini pennella Un traversone al centro Dove Coralli Di testa Non trova fortuna Russi ancora una volta Protagonista Con Fabri Che cerca la volée Ma finisce Per svirgolare il pallone Ospiti che danno Ceni di vita Con un tiro centrale Debole di Magnani Quarta Prova a dare una marcia in più Ma oltre all'accelerazione Servirebbe precisione Precisione Che trova più tardi Quando da calcio piazzato Chiama all'area spinta in corner Il portiere Menghi Ripresa Russi assiede alla porta avversaria Fabri Velocità Scappa via gli avversari Ma si lascia Per notizzare da Capelli Sul più bello Gallamini Metta al centro Ma la difesa di Bacchia Quasi quasi si fa male da sola Da corner Arriva un vero batteri batti Con la porta di Capelli Che sembra davvero Essere stregata Stessa cosa Quando dalla sorgente di prima Nasce l'incursione In area avversaria Con il tentativo locale Murato Dalla retroguaglia del Bacchia Si cambia fassa Ma in fatto di entrata In porta Non se ne parla proprio Quando Fabri Spreca così L'occasione della vita Bellazione è firmata Poco dopo Dal duo benvenuti Fabri Con Capelli Che questa volta Rispinge il tentativo avversario Facendo buona guardia Sul proprio palo Da qui in poi Succede davvero di tutto Il Russi passa Ma la direzione arbitrale Annulla il gol Dalla tribuna Urla non fuori gioco Ma è verità Il direttore Annulla la rete Poiché considera Che il pallone Abbia oltrepassato La linea di fondo capo Ma in verità Le immagini Ci mostrano il contrario Sembra la solita partita Beffarda Per i Farchetti Che invece Si scoprono autori Di grandi firme Quando Spazzoli Spazza in un attimo A sfortuna Polemiche e critiche Gettando in fondo al sacco Il pallone Del 1 a 0 Sembra finita Ma Menghi La combina grossa Sul rinno Contraversione In area di rigore Travolge Magnani Per l'arbitro Trattasi di rigore Dagli 11 metri Lo stesso Magnani Trasforma I penalti del pareggio La risposta del Russi È rabbiosa Da calcio piazzato Babini Non in quadri bersaglio E nel finale Altre problemiche Per un fallo di mano Non sancito Con il rigore Dal direttore di gara 1 a 1 E fine dei giochi E allora Eccoci ritornati in studio Ricordando che ovviamente È stato osservato Sui campi Il minuto di silenzio Relativo ovviamente Alla tragedia Di Regopiano Continuano arrivare I messaggi Soprattutto per il nostro Giacomo Alpini Cosa rispondi Al nostro telespettatore Un messaggio lunghissimo Comunque Allenarsi al pomeriggio Eccetera eccetera Chi ha preso questa decisione Sì Stiamo parlando Del bell'aria Sì Dico purtroppo Perché aveva già creato Subito le prime defezioni Con l'entrata Con il cambio del mister Tra mister Lepri E Mosconi La società ha deciso Di passare Dall'allenamento Serale Intorno alle 7 Di sera A quello pomeriggiano Dalle 2 e mezza Effettivamente Ha creato Dei piccoli problemi Ha creato Dei problemi Il primo È stato quello L'addio di Braschi Che è andato al Tropica Corriano In promozione Ed era un centrocampista Che stava facendo bene Che ha deciso È molto difficile A bell'aria Come spesso accade Le informazioni Girano poco È possibile Che questa sia Sia una causa Per quale I giocatori Non arrivano a bell'aria Ma penso che sia Solo una Di molti giocatori Svincolati Chiedono garanzie Che possono essere Aspetti tecnici E non solo tecnici Quindi Bisogna vedere Però ci può stare Anche questa causa Comunque non è stato Giacomo Alpini A prendere questa decisione Rassereniamo tutti i tifosi No no Io le avrei fatte Arminare il pomeriggio Alla sera Quindi E ti saresti allenato Anche tu scommetto Intanto Un saluto ad Alex In diretta Da allenanza Diciamo belle donne E calcio Mi raccomando Ci tiene E noi quindi Alex Un saluto a tutti Non ho potuto dire All'altro sostantivo Non potevo dire All'altro sostantivo Non Però c'è capito E mi ha scritto anche Diglielo Perché ci tiene lui E ci teniamo anche noi E ci risponde invece Mi ricordavo quando giocavamo insieme Nei giovanissimi Se vedevi che avevi un altro passo E sono sicuro che ti toglierai Tante soddisfazioni Mirko Grazie Basta che cambia Il giocatore Il cui si ispira Io lo dico subito Quale è stato invece Contro chi è stato Il tuo gol più bello In prima squadra E come pensi di esultare Invece Al prossimo centro Il mio unico Tu unico Contro il Migiano All'andata Quest'anno Hai un'esultanza speciale Per il prossimo gol Ah no Quando viene viene Come viene viene Importante che venga Allora io direi Adesso andrà a vedere Quello che è successo In casa del San Pietro In vincoli Con il secondo servizio Inerente a questa categoria Servizio Ci prende in gusti San Pietro E vissa la vittoria Della settimana prima Vincendo un'immisola Sul campo amico Contro il Valle Sabio Partita non particolarmente accesa Occorre aspettare Circa la mezz'ora Per vedere un tiro di altieri Che Sassi blocca senza difficoltà Il portiere di casa Si ripete 60 secondi più tardi Sul corpo di testa Di Morganti Il San Pietro Impegna per la prima volta La squadra avversaria Con Genuario Marchi Le spinge In corner La squadra di Freschi Mette nelle condizioni Spanissi di andare a tiro Gregori Le spinge E poi Baldinotti Non incide Nella ripresa Lo stesso Baldinotti Cerca di farsi perdonare Ma Marchi Le spinge Il suo tentativo Ma il gol Arriva 4 minuti più tardi Manca a dirlo Il solito genuario Sfrutta nel migliore dei modi I cross di Barzan Segnando In girata Baldinotti Che vuole per forza di cosa Entrare nel tabellino dei marcatori Riesse andrà alla conclusione Ma spedisce a lato E' un assedio Quello di San Piero Che vorrebbe congiare la partita Ma Berardi Trova sulla propria strada L'ottimo Marchi E Valle Sabio Cercherà la via dei gol Con un colpo di testa di Milanesi Ma questo rimarrà L'unica azione Della ripresa Dall'altra parte Genuario Chiama la presa a terra Lo stesso Marchi Baiardi Il nome duello con il portiere Come del resto Lo stesso estremo ospite Deve superarsi anche su Macconini E dove non arriva lui Arriva il palo A negare nuovamente La gioia dei gol A Baiardi Il finale di gara Viene espulso di Gregori Per una trattenuta su Barzani Il San Pietro Così può finalmente Festeggiare La vittoria Io sono curiosissimo Perché avete un elemento esperto Come non sei lì Mi racconti Quelle particolari Telecamere spente Quando c'è stata anche L'insultanza Di quel ragazzo Che mi dicevi Giovanissimo Che è andato in gol No, domenica è stata una cosa A mio avviso Molto positiva Anche sotto l'aspetto spettacolare Anche per i loro Che vengono a vederci giocare Prima della partita C'è stato un signore Che ha un nipote Tra l'altro è sordomuto Quindi questo ragazzino piccolo Gli fa anche un po' da traduttore Così viene da me A chiedermi le informazioni In tribuna Hanno fatto una foto Prima dell'inizio della partita Noselli Garni Che è il 99 Che poi ha fatto gol Con questo ragazzino in mezzo E probabilmente Si sono promessi Che se Garni Avesse fatto gol Sarebbe venuto Ad esultare Quindi come ha fatto gol Si è visto proprio Il ragazzo del 99 Che è corso verso la tribuna Il ragazzino Che è andato alla rete E si sono Così Si sono toccati Hanno esultato insieme Secondo me queste sono le cose Che contano di più Un altro episodio Che posso così accennare Al volo Che mi è piaciuto moltissimo E' stato il giocatore Tonini Che abita a Imola E non ha mai mancato Un allenamento A fare 50 km A Sassomarconi Che era richiesto Da Massa Lombarda Da Rolo Da tutte le parti A suon di quattrini Lui ha voluto E è voluto Rimanere con noi Ripeto L'ho portato io Da Alfaenza l'anno scorso Quindi non è che Sia tanto Però si trova talmente bene Che lui ha voluto Rimanere da noi Anche se Entra un po' Sì e un po' No delle volte No Quindi cos'è successo Che Entrato nel secondo tempo Aveva una carica Adosso che mai Ha preso la parla L'ha cacciata in rete Ha fatto il riloggio Un turno di promozione Anche qui ci sono sfide Interessanti Come vedete Per l'appunto Il calcio del 2 Che è tra le squadre Anche favorite Per la rincorsa Nei playoff Subito come ostacolo Avrà il Cotignola Gambettola Red E poi via via Tutte le altre Il derby Giovane Cattolica Sì Giovane Cattolica Torconca E anche Gatteo Tropical Coriano Ricordiamo che Tropical Coriano Appunto E' atteso Almeno nella seconda parte Di stagione A un riscatto Avendo cambiato Anche la guida tecnica Allora Io mi fermerei qui Perché diamo Una linea di pubblicità Per un minuto e mezzo Quando rientriamo Rimanete con noi Perché ci sposteremo Dalle parti di Veronica Andremo a capire Appunto La sconfitta di Gabizia E poi A Nuova Filtea Sono risorti ieri Perché sono riusciti A giudicarsi Il match Il derby Della Val Marecchia Con il Poggio Beni Ebbene Pubblicità Sì Sto entrando Da Oliviero La città Dell'abbigliamento Qui c'è tutto Sì Sono settore Abiti eleganti Diggielo 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 tua moglie C'è anche Settore Abbigliamento Femminile Elegante Sportivo Bellissimo Mi chiedi Se ci sono Gli abiti da sposa Ma qui è una città Degli abiti da sposa Una città Degli abiti da sposa Tu pensa Tu pensa Pensa Che ce ne sono Più di mille Non solo Ci sono anche Le bomboniere Una volta Oliviero Era It's beautiful Oggi Oliviero È in champion Oliviero La città Dello shopping Montefeltro Vedute rinascimentali Venite a scoprire la bellezza Che ha incantato e rapito I grandi maestri del rinascimento Oleificio Pasquinoni All'avanguardia Nell'impiego Delle più moderne Tecnologie Che unite alla passione L'esperienza E l'amore Danno vita Ad un prodotto Straordinario Extra Eco L'olio buono È di casa Pasquinoni Una goccia d'olio buono È una goccia di vita Che nutre E previene Oleificio Pasquinoni Nuova sede Ma Vecchie tradizioni Credi davvero Che bastino Poche parole Per trasformarti In un romagnolo doc Al ristorante Brusarul Da sempre Esaltiamo La nostra bella Romagna E nel modo più genuino Provi i nostri piatti A base di pasta Fatte in casa Le nostre pizze Cotte nel forno a legna Tien botta È il nostro motto E da sempre Offriamo qualità Ristorante Brusarul Via Sant'Arcangiolese Appoggio Berni Con ampio parcheggio esterno E isola per bambini Info 05456 4168 8180 O brusarul Punto com Sono Fabio Giancarlo Titolare Della DGDF Fornitalia Vi vorrei presentare I prodotti Che costruiamo In questa azienda La nostra azienda Costruiamo forni Di tutte le misure Impastatrici Di tutte le misure Spogliatrici Per pasta Di tutte le misure Varie sfogliatrici Per la pasticceria Stendipizza Oste di piada Secondo il vostro uso Griglie petrolavica E anche Pocipiade elettrici Di varie misure Vi aspetto In azienda Romagnasport.com Il calcio dilettantistico Come non l'hai mai visto Eccoci Eccoci Allora Siamo ritornati Nuovamente in diretta E fioccano I messaggi Per il nostro Alex Iniziamo subito Allora A tastare La situazione E relazioni Con le tue donne Pensi che possono Condizionare Le tue prestazioni In campo Caro Alex Bisogna chiedere A mister Costa E Società Pensavo al tuo babbo Fabio Che salutiamo Un saluto Invece ti arriva Dalla tua compagna Di banco Vai così Sei bellissimo Da Anna V Complimenti Grazie E poi ci chiedono Ti piace segnare O far sognare Caro Alex Tutte e due Segno e hai fatto sognare Sì ma sta povera Anna Ti piace farlo sognare E tu gli dai una risposta In diretta Sta povera Anna Adesso non entriamo troppo Ti ha scritto Proprio per dirti Sei bellissimo Mi fa piacere Ma dili anche Dili sei bellissima Dili qualcosa Bene La liquidata Con un Mi fa piacere Va bene Anna Tu non sei io Sei bellissima Da parte di Alex Sì sì Hai ragione Bene Allora Ritorniamo seri Perché andiamo a vedere Quello che è successo Come dicevamo Al di là del tavolo Quindi situazione Di promozione Geronea Marchigiana Dove siamo giunti Alla diciassettesima giornata E apriamo questi risultati Con i big match Di giornata Olimpia Marzocca Atletico Alma 1 a 1 Valfoglia Belvedere 3 a 1 Passatempese Nuova Real Metauro 3 a 2 Ilario Lorenzini Osimana 2 a 1 Moia Vallesina FC Senigallia 0 a 0 In questo scontro diretto Audax Piobbico Vigor Castelfidardo È stata invece Rinviata La Laurentina Riesce a fermare Invece il Vigor Senigallia Solo 0 a 0 E Gabicio Gradara Villa Musone 0 a 3 Andremo a breve A vedere il servizio Diamo uno sguardo Allora anche alla classifica Ricordando che è sempre lui Il capocannoniere Di questo girone Dennis Pesarese Dell'Olimpia Marzocca Con 14 gol Sottolineiamo che anche qui C'è appunto la gara da recuperare Audax Piobbico Vigor Castelfidardo Ilario Lorenzini Sempre in vetta 38 punti Maggior numero Di vittorie Benundici E una sola Sconfitta In zona playoff Atletico Alma 32 punti Olimpia Marzocca Che vanta anche il migliore attacco Con 32 reti fatte 31 sono i punti Moia Vallesina 28 26 FC Senigallia Sale la passatempese E risale la classifica Il Valfoglia Esce invece il Villa Musone Dalla zona playoff Migliore difesa Per quanto riguarda Il Vigor Castelfidardo 12 punti E poi dove troviamo Il Gabicio Gradara Ebbene sì Lì proprio vicino Alla zona retrocessione Perché nuova Real Metauro 20 punti Gabicio Gradara 19 Zona rossa Belvedere 12 E Audax Piobico 11 Insomma davvero difficile Davvero questo cammino In promozione Per quanto riguarda Il Gabicio Gradara Che incassa questa sonora Sconfitta Domenica Ad opera del Villa Musone Allo stadio Maggi di Gabicio Mare E allora andiamo a vedere Quello che è successo Nel servizio Il Gabicio Gradara Non sfrutta Il fattore campo Al Maggio in cassa La prima sconfitta Di questo 2017 1-0 A tre pesanti In questo scontro Diretto contro una rivale In zona playoff Il Villa Musone E affonda Nelle sabbie mobile Solo più sette Dalla zona rossa Con la ritocessione Recuperato in estremis Palazzi Fra i pali E ritorna dal primo minuto Alessandro Rossi Squalificato Tebaldi Fabri Si torna a ricoprire Il suo ruolo originale Centrocampo Pronti via E al settimo minuto E il Gabicio Gradara Proporsi con il traversone Di Arduini Che in becca Dalla parte opposta Marchetti Destro ad incrociare Che lambisce però il palo A dodicesimo In avanti Giallo-Blu Gigli In coccia su Fabri Che volontariamente serve Coletta Che ha tutto il tempo Di colpire a bersaglio Ma indirizza in maniera imprecisa Risposta adriatica Al quindicesimo Sulla scia di sinistra C'era Micola Col contagiri Per il tuffo di Cesaroni Che di testa Non trova lo specchio Dalla porta Al diciassettesimo Il Bielamusone A creare grattacapi Tunuzzi Sul secondo palo Perna Che trova il guanto Di Palazzi Due minuti più tardi Ancora Ospiti In agguato Prima con questo colpo Di testa A lato Poi al ventitresimo Con il sinistro Centrale di Mascambruni Facile per Palazzi Il go nell'aria Giunge al ventiseesimo Azione combinata Di Tunuzzi Perna Che chiude il triangolo Mettendo al centro Per Coletta C'era Micola Scivola Palazzi Non trattiene Gabice Grada A zero Villa Musone Uno Giallo blu Più propositivi Al ventisesimo C'è la stoccata Di Mascambruni Palazzi Non trattiene Sulla ribattuta Va a Leonardo Ma si salva N'estremo locale Al trentaseiesimo L'ora Tentativo Solitaria Di Arduini Che non sorprende Però Ferrucci E si va così Negli spogliatori Sul risultato Di 0-1 La ripresa Si apre con il ritorno In campo Di William Muratore Più di un mese Dallo stop Forzato Per operazione Minisco Gabice Gradara L'ottavo Che ha questa Buona chance Ma è Arduini A mandare a voto Il tappino Sottoporta Al sedicesimo Allora si mettono In mostra Gli ospiti E Leonardo Trova però Palazzi Sulla propria strada Ancora Villa Musone Al sedicesimo Punizione Di Reucci Uscita vuoto Dell'1 Locale Fornari A botta sicura Ferrani Salva sulla linea Ospiti In palla Al ventesimo Tonuzzi Da lungo linea Fornari Di prima intenzione Apre troppo Il compasso Gabice Gradara Che non si arrende Al venticinquesimo Cross di Arduini Per costa Diagonale Rosso In scivolata Non ci arriva di un soffio Minuto 31 E sono nuovamente Rosso Blu Tentare di ridurre Il gap Arduini Alza di pochissimo La mira Nel finale Dilacca però Il Villa Musone Contro piede micidiale Al quarantesimo Con Tonuzzi Che scarica Alla sua destra Per Fornari Raso terra E Gigli Deve solo spingere La sfera in rete Gabice gradara a zero Villa Musone due Il colpo del capo È stato assestato E al quarantatresimo Ci si mette anche la sfortuna Ceramicolo nel tentativo Di liberare la propria porta La mette in realtà dentro Al quarantacinquesimo Il subentrato broccoli Ad evitare il poker Finale al magico di Gabice mare Gabice gradara a zero Villa Musone tre Brutta sconfitta Per il rosso blu Che piova Ora in una zona Pericolosissima Una svolta Sarà necessaria Sul piano di gioco E anche mentale Per tentare Di non gettare le ortiche Questa prima stagione Seppure da matricola Nel campionato di promozione E allora come dicevamo prima Gabice gradara che fatica In questo campionato di promozione Gabice gradara che comunque Prosegue invece Quello che è il cammino In Coppa Italia In particolar modo 8 marzo Sarà impegnato in semifinale Contro il Vigor Castelfidardo E poi come sappiamo Finestra di mercato Ancora aperta È probabile in settimana Un arrivo Ancora però non è nulla Di deciso Vediamo insomma Se questo colpo di mercato Verrà assestato Chiedo al nostro Stefano Papini Di farci vedere allora Il prossimo turno Dove troviamo Atletico Alma Audax Piobbi Con nuova Real Metauro Gabice gradara Con l'Olimpia Mazzocco Che sarà impegnato sul campo Contro il Valfoglia E poi Vigor Senigallia Passatempese E Osimana FC Senigallia Questo per quanto riguarda La parentesi Della promozione marchigiana Domanda Aspettative per quanto riguarda I Gabice Cangini Tutto ok Rimane Tutto confermato Ok Questa è una cosa importante Volevo sapere anche da Gabice Passiamo sempre con il nostro Stefano Papini A vedere la prima categoria Girone H Qui ci sono risultati importantissimi In sintesi Grandissimo colpo del Miramare Che vince lo sconto diretto Per la salvezza Sul campo del Rumagna Il Morciano Pensate un po' Un mese fa Era terzo ultimo in classifica Adesso Piomba in zona playoff Al quinto posto Imponendosi per una rete a zero Sul campo del Verrucchio Il Pietracuta Per quanto riguarda La zona alta Continua a reggere il confronto Con l'Igea Vincendo con l'ultima Della classe Villa alta L'Igea invece impatta Sul pareggio Sul campo dello Spontricciolo Per zero a zero I colonnelli invece Che leggermente su Per quanto riguarda La zona playoff A 21 punti in classifica Utterra un importante pareggio Tra le Muramiche Contro il Granata Andiamo a vedere Il servizio Inerente a questo servizio Poi dopo andremo Il servizio Scusate Inerente a questo girone Poi andremo a vedere Anche classifica E il prossimo turno Ieri c'è stato un importante derby Della Valmarie Che ha vinto dal Nova Feltria Contro il Poggio Berni Nova Feltria Che pensato un po' Non vinceva Dal 13 novembre Il servizio Sette domeniche Due mesi e mezzo Dall'ultima vittoria Sette giornate di campionato Un abisso Dal 13 novembre Al 29 gennaio Il Nova Feltria Torna a vincere Lo fa col cuore Con maggior determinazione Rispetto al Poggio Berni La gara è maschia Ricca di polemiche Anima accesi E non potrebbe essere Altrimenti Quando ci sono queste due squadre In campo I tifosi giallobru si fanno sentire Sugli spalti E gridano vittoria Che alla fine arriva Grazie al decimo cento Di stagione Di Mattia Stefanelli Una boccata d'aria Per i padori di casa Attesi mercoledì sera Nel recupero comunale Contro il Colonnella Poggio Berni Che si dimostra Una squadra tosta Ma troppo fallosa Saranno ben 5 cartellini gialli A fine gara Per gli ospiti Che tuttavia Rischiano di essere colpiti Già all'ottavo Quando Mattia Stefanelli Viene lanciato in area di rigore Ma al momento del tiro Arriva l'intervento di Grossi Da vedere Se dentro o fuori L'area di rigore Il reprei curato Da Elisa Drudi Sembrerebbe dare chiarezza Agli spettatori Lasciamo però Libertà di interpretazione Dalla punizione Fraboni Spedisce la sfera Sopra la traversa La prima sortita offensiva Di Marco Ospite Giunge due minuti più tardi Quando da calcio è piazzato E Casadei A non inquadrare Il bersaglio La partita è molto tattica Chiusa e ricca di falli Il gioco spezzettato In varie occasioni I calci da fermo Risultano essere dunque L'unica arma per colpire E Fraboni Dalla stessa mattonella Dalla volta prima Spedisce la sfera Sull'esterno Della rete Ma il preludio Al gol Per i padroni di casa Che concretizzano I loro sforzi Raccogliendo fuori Dall'area di rigore Un pallone Che Federico Balderini Mette al centro E seguendo un tiro cross Raccolto da due passi Da Mattia Stefanelli Deviazione vincente Sottomisura E gol Partita Nella ripresa La gara varra di emozioni Con un pallone bloccato Sulla linea di porta Da ronci Sempre tra l'altro Da calcio piazzato E con un tiro insidioso Sventato Solo all'ultimo Dall'estremo Di casa Che azioni latitano E alla fine Inova Feltria Può finalmente tornare al successo Dando una vera boccata d'ossigeno Alla propria classifica Non è stata una bella partita Come avete potuto vedere Dal servizio Però adesso Con Stefano Papini Andiamo a vedere la classifica Perché cambia qualcosa Per quanto riguarda Le zone rosse Della gradatoria Per l'appunto La vittoria importante Della Nuova Feltria Che arriva al quarto ultimo posto Mercoledì Ricordiamo In programma Alle ore 20 e 30 Proprio al comunale di Nuova Feltria Il recupero Della prima partita E il recupero Della prima giornata di campionato Tra Nuova Feltria E Colonnella Come vedete Nuova Feltria Quarto ultimo A 19 punti Colonnella Quinto ultimo A 21 punti Punti importanti Perché lo Spontricciola È l'ultima squadra Che otterrebbe sul campo La salvezza matematica Poi dall'inpo Inizia la gradatoria Dei play out Fino ad arrivare A Villa Alta Che è l'unica squadra Che in questo momento Sarebbe retrocessa Matematicamente In seconda categoria Il Ligea Marina Continua a condurre Però di mezza Il vantaggio Sul Pietracuta Anziché più 7 Più 5 In virtù del pareggio Tenuto ieri Il Verrucchio Consolida La terza posizione In classifica Tra l'altro Verrucchio Domenica prossima Andiamo a vedere Proprio il prossimo turno Sempre con il nostro Stefano Papini Sarà impegnato Sul campo Della Junior San Clemente Che ieri Ha potuto risorgere Grazie alla vittoria Importante Tra l'altro Tra i risultati Più sorprendenti Del girone Sul campo Della Vis Misano Benissimo Siamo alle battute finali Noi vi ringraziamo Per averci seguito Anche in questa serata Ringrazio Veronica Lisotti Grazie a te Daniele Grazie a tutti voi Come sempre Appuntamento con Calcio di Rigore Lunedì alle 19.55 Purtroppo lo salutiamo Porta anche un po' sfortuna Perché sei infortunato Buonaventura per il Milan Milanista come me Giacomo Alpini Ciao Buonanotte a tutti Ringraziamo anche Per la sua spontaneità Sincerità Bellezza Per quello che ci ha raccontato Il Sassu Marconi Il dirigente Fabio Bianchi Grazie Arrivederci Alla prossima Chiamatemi pure Io ti richiamo Grazie a lei E saluto Promettendo un incontro Un appuntamento Con Anna La sua compagna di banco Alex Sottentone Grazie Grazie per l'invito Grazie Allora noi ci rivediamo Tra poco Tutto su Limini Calcio Due servizi speciali Imanete con noi Tutti in sport app Grazie